Rimini-Pescara si affrontano due squadre in evidente difficoltà per i biancazzurri appena 4 punti e 5 KO nelle ultime sette gare. Romagnoli reduci invece da 4 sconfitte di fila, Coppa Italia compresa. Non possiamo permetterci ancora passi falsi, ma non tanto per il discorso che può rischiare l'allenatore, perché ne abbiamo fatti tanti. E quindi ripartire anche dal finale contro la Carrarese secondo me può dare la svolta a questa squadra. Questa squadra deve crescere nella fase di non possesso, al di là del sistema di gioco, perché secondo me il primo gol, perché è vero, preso a difesa schierata, si poteva fare nettamente meglio, perché l'altra persona era leggibilissimo, c'erano Floriani e Pellacani e in mezzo ha saltato della latta. Nello sviluppo dell'azione della Carrarese, che è stata bella, ci mancherebbe, la squadra era larghissima, lunga e larga. Sì, malgrado eravamo, tra virgolette, con un difensore in più, sì. È stato un errore che abbiamo fatto, io non so se è stato un approccio fatto male. Come hai detto tu, comunque non eravamo messi bene, malgrado avevamo un difensore in più nell'occasione e nel gol segnato dalla Carrarese. Secondo lei, Minister, la squadra è andata meglio negli ultimi 15 minuti del match con la Carrarese quando è tornata a 4, al 4-3? Penso sia stata più una reazione nervosa della squadra, potevamo giocare in qualsiasi modulo, secondo me è stato quello che poi ha dato la possibilità di racciuffare la partita. Buccaro conferma la difesa 3, ma senza trequartista, schierato invece nei primi 60 minuti del match con la Carrarese. Un solo assente Vergani torna a disposizione Sasanelli. Ecco il probabile 11, Plizzari tre pali, Pellacani, Brosco e Di Pasquale nel cuore del reparto arretrato sulle fasce Pierno e Milani. A metà campo il tandem Aloy squizzato, davanti dal primo minuto a Cornero e non Cuppone con Merola e Cangiano ai lati. Rispetto alla squadra schierata domenica scorsa le novità sarebbero due, Pierno e appunto a Cornero. Rimini dodicesimo in classifica, meno uno dai play-off più cinque sui play-out, con Troisa in panchina il recupero è stato prodigioso. Dopo sette giornate subentrato a Gabriel Raimondi, i Romagnoli erano ultimi in classifica con quattro punti. Dopo l'esordio sciocca a Pontedera 4-0, nove risultati positivi, cinque vittorie e quattro pareggi. Quindi tre sconfitte di fila e un'altra serie utile e significativa, quattro successi e tre pareggi, un solo KO in casa col Super Ciasena. Tutto questo sino al 24 febbraio, blitz ad Ancona e ottavo posto. Poi però l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia con la Catania e tre KO consecutivi contro Lucchese, Sestri e Spal. 34 punti in 24 partite per il 45enne tecnico napoletano, che dovrà rinunciare al contributo dello squalificato Meghelaitis e degli infortunati Pietrangeli, Oddi, Leoncini e Marchesi. Probabile sistema di gioco 4-2-3-1, tra i pali l'esperto Colombi. In difesa Tofanari, Gorelli, Gigli e l'ex Quacquarelli. A centrocampo Langella e l'ex Sampdoria e Verona Jacopo Sala, esterni il talentuoso Lamesta e Malagrida. Tra le linee la mezzala del carro, riferimento centrale il 29enne Claudio Morra, autore finora di 16 gol. In questo caso l'altro ex Jacopo Cernigoi partirebbe dalla panchina. Al di là del sistema hanno mantenuto quelle che sono le proprie caratteristiche e abbiamo lavorato su entrambe le situazioni, ma al di là di quello che poi troveremo, ripetisco, una squadra molto chiara come avversario, ci siamo concentrati soprattutto su quello che deve essere la nostra interpretazione. All'andata il Rimini si presentò con un 4-3-3, diciamo così, atipico, no? Perché c'era Cernigoi che sbariava un po', Lamesta, che è un giocatore di grande talento, e Morra. Ti aspetti questo assetto o secondo te può cambiare? Perché si parla di un 4-2-3-1 e quindi sarebbe sulla carta anche un po' più offensivo. È una squadra particolare, detto bene all'andata, loro giocarono con Lamesta, Cernigoi e Morra, un po' una sorta di 4-3-3, ma era un 4-3-3 camuffato perché più o meno Morra e Cernigoi giocavano abbastanza centrali. Si apriva la mezzara, loro fanno molte rotazioni, hanno cambiato vari assetti durante il campionato, quindi ci aspettiamo qualcosa, ma abbiamo provato sui vari assetti che può mantenere o può cambiare il Rimini. Bilancio al Romeo Neri di Rimini, sette confronti, una sola sconfitta nel lontano 81-82 Serie B, marcatori Bilardi e il giovane Pasquale Traini, Biancazzurro nella stagione 89-90. Quattro i pareggi, nelle immagini 2-2 in B il 28 aprile 2007, avanti il Rimini di Leo Acori con Biagio Pagano, 1-1 di Daniele vantaggiato con questo gol rocambolesco che sorprende Samir Andanovic. Nuovo sorpasso dei padroni di casa col solito Biagio Pagano, 2-2 dell'allora 21enne. Antonio Aquilanti è la prima gioia tra i professionisti, era il Pescara dell'esordiente Vincenzo Vivarini. Due invece i blitz, il primo nel dicembre 1976, i Biancazzurri di Giancarlo Cadè, promossi a fine campionato in Serie A, si impongono 2-1 grazie alla doppietta di Cesati. Il secondo successo a Rimini, 2-0, sempre in B, 18 marzo 2006, in calce la firma di Daniele Croce, doppietta nei minuti finali, era il Pescara di Maurizio Sarri.